L'innovazione al reato non è uno che ha fatto insieme al mafioso il reato, ma è uno che dall'esterno, non facendo parte della mafia, aiuta in qualche modo l'organizzazione, anche senza commettere specifici reati. So this external participation in mafia association is a crime that we have in Italy, is not a participation in one specific crime, it is rather the role of facilitator creating from outside the mafia the conditions in some way that made possible for the mafia to exist and to commit several crimes. The people who commit the crime of concorso esterno do not commit any other crime and may be completely clean. just they are facilitators of the mafia basically. Voi capite che la cultura tradizionale reagisce violentemente al maxiprocesso di Palermo. in Italia. And so, as you may understand, being in front of all these innovations that we have listed with three points, the traditional juridical and political culture in Italy reacted very badly to these innovations in 1989. E questa reazione non è solo di persone che vogliono sostenere la mafia. ma di persone che sono lontane mille chilometri dalla mafia come cultura e come loro posizione morale e politica. nel 1991, insieme a Martelli, insieme a Martelli, decidiamo di istituire due organismi, uno giudiziario, il National Body for Judicial Investigations. Direzione Nazionale Antimafia. In 1991, con poi, il Ministro di Justi Claudio Martelli, abbiamo creato due nuove strutture in the state, one was judicial, the Direzione Nazionale Antimafia which is the national body entrusted for mafia investigation the second one la seconda è la organizzazione investigativa della polizia delle polizie unica Direzione Investigativa Antimafia Ghia and the second one was a political a police structure for police investigation investigation against mafia and the basic characteristic of it is that it is a unified body for national body for investigation and mafia via Direzione Investigativa Antimafia la reazione prima dei magistrati fu violentissima il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati dichiarò che la DNA era una nuova cupola mafiosa the first reaction from the judges and magistrates in Italy was very violent the head of the president dell'Associazione di magistrati the president of the national association of magistrates say that this was this anti-mafia investigation commission was another mafia falcone pagò duramente per aver ispirato insieme al procuratore Giuliani l'idea di un giudice specifico per i reati di mafia nelle diverse corti territoriali le direzioni distrittuali antimafia di oggi giaggio falcone